Buongiorno gentili telespettatori, bentrovati. Ampia pagina sportiva di oggi capriamo con il tennis, lo storico primo successo in un torneo 250 WTA di Elisabetta Cocciaretto. La 23enne San Giorgese al termine di una combattutissima finale ha battuto in 3-7 la francese Clara Burel, numero 84 del ranking internazionale. Il prestigioso successo tra l'altro gli consente per la prima volta in carriera di approdare tra le top 30 e prima delle italiane. Per la Cocciaretto era la seconda finale in una competizione così prestigiosa ed è arrivato il riscatto dopo il capò subito a gennaio a Hobart in Australia. E buone notizie anche dall'atletica leggera dove l'anconetano Simone Barontini si è confermato campione italiano degli 800 metri a Molfetta. Nella finale tricolore si è tolto anche la soddisfazione di ottenere il primato personale con l'ottimo tempo di 1.44.50, sesto posto assoluto all time tra gli azzurri. E passiamo al calcio, tempo di amichevoli sabato. L'Ascoli ha concluso la sua prima parte di ritiro superando per 5-0 il Tolentino a Porto San Giorgio. I bianconeri attenderanno venerdì la recanatesa a Porto Sant'Elpidio e proprio i giallorossi con Sbaffo e Valleja hanno avuto la meglio al Tubaldi 2-0 con l'Osimana. Vediamo il servizio. Si rimarca spesso la scarsa affidabilità del calcio d'agosto. Figurarsi di quello di luglio con carichi di lavoro, caldo e gambe imballate. Ogni giudizio dunque deve essere ponderato con estrema cautela e con tutti i distinguo del caso. Però la prima uscita della recanatesa al Tubaldi ha offerto qualche indicazione confortante. Si intravedono buone potenzialità, in primis con il binomio dei sogni, quello composto da Sbaffo e Melchiorri, due talenti diversi ma purissimi che si cercano in continuazione, dando sempre la sensazione di poter creare qualcosa di interessante e di insidioso per gli avversari. Siamo appena all'alba della stagione, ma è evidente che la loro intesa sarà forse la chiave principale per decifrare cosa attenderà i giallorossi. Un po' per tutti c'è stata la lieta novella di rivedere Gianluca Carpani, uno dei protagonisti della scorsa annata, e non solo per le dieci reti realizzate. Qualcosa oggettivamente sospettavamo. Tutti lo davano in partenza con Carrara, destinazione in pole position, ed invece latitavano, annunci ufficiali, ed anche indiscrezioni segnalavano che non era poi così scontato. Il giocatore ha lasciato capire che per il ritorno a De Canati è praticamente cosa fatta, ed i colloqui con allenatore, patron ed ovviamente DS, fanno intuire che manchi solo il rituale nero su bianco. Pensierino finale per Francis Gomez, che nell'ultima mezz'ora ha riassaporato la gioia di tornare all'agonismo, dopo un complesso e tribolatissimo anno di stop. Il centrocampista Gambiano Scalpite, questo era scontato, ma nei limiti della precarietà della preparazione, ha fatto vedere che può recuperare, ed anche in fretta, il ritmo partita. Sarebbe davvero il colpo a sensazione, e la Re Canatesi lo aveva proprio in casa. Restando in Serie C, la Fermana ha annunciato l'ingaggio di Riccardo Tilli, esterno proveniente dal Monte Rotondo, ed è vicina anche la firma di Jacopo Gianelli, mezza alla scuola Inter, reduce da due gravi infortuni che hanno condizionato il suo percorso con la maglia del Pro Sesto. Ed a proposito di amichevoli, ricordiamo che al Bianchelli di Senigallia, in programma mercoledì, il testa alle 17 di ingresso libero, tra la Vigoro e la Vispesaro, sospiro di sollievo per Alessio Vrioni, che in un recente allenamento congiunto ha rimediato un colpo alla testa fortuito. L'attacca ha dato risponso negativo, e dunque il giocatore può rientrare in gruppo. E da Martinsicuro in Abruzzo si sono conclusi i campionati italiani giovanili di pattinaggio con un fabrianese grande protagonista, vediamo. Ormai nel pattinaggio è molto più di una promessa. Cristian Scassellati, 16 anni, già campione europeo allievi e portacolori della fortitudo fabriano, si è confermata ai massimi vertici vincendo due titoli italiani e tricolori di Martinsicuro, che si sono conclusi ieri mattina. Il giovane atleta marchigiano, allenato da Patrizio Fattori, è salito sul gradino più alto del podio, nel girocrono e nella 500 metri sprint. Una tre giorni che ha regalato emozioni forti a tutti gli appassionati e ai tanti spettatori presenti. Oltre 450 partecipanti e più di 60 le società iscritte, in rappresentanza di tutte le regioni dello stivale, comprese Sicilia e Sardegna. Campionato 2023 che ha visto la partecipazione di molti dei più forti pattinatori a livello europeo della categoria allievi. Presenti infatti in Avruzzo, alcuni dei nuovi campioni continentali, freschi di uno o più titoli individuali di squadra, conquistati in Francia ai recenti europei di Valence d'Agen. Giovanissimi talenti italiani come Sofia, Paola Chiumento, Asia Negri, Giorgio, Ghisio Erba, Adam Maiorca, Joelle Citterio, Rita De Gianni e Lisa Folli, oltre a scassellati ovviamente che ha ribadito la bontà, di una scuola marchigiana che continua a mietere successi. Un'ultima notizia per tutta questa settimana, ospite all'Umana Blu, una grande stella della pallacanestro NBA, si tratta di Linton Johnson, ad organizzare il tutto l'ex capitano della nazionale belga e bandiera della Sutor Montegranaro di un tempo, Dimitri Lowers. Il campione statunitense sarà a disposizione girando un video insieme a ragazzi del Restor, che sarà promozionato poi sui vari canali social. Tutto anche per la pagina sportiva, grazie per la cortesa attenzione e appuntamento a questa sera. Grazie a tutti.